Questo è San Maurizio, lì c'è il cuore, la serie del lago, qui sono sulla torre, guardate che scale sottili, guardate come sono sottili queste scale. E' proprio sottili, come si comincia a venire da una mano, guardate il lago. La vista sul lago di Como, lì ci sono persone, lì giù. La vista sul lago di Como, lì c'è il cuore, guardate il cuore, guardate il cuore, guardate il cuore, guardate il cuore. Grazie. 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 Grazie.